buongiorno e benvenuti sul mio canale oggi vi voglio fare vedere un tipo di pasta sempre siciliana un altro panese che si chiama gnocuri e li possiamo condire con il sugo di pesce di tonno anche con la carne se vogliamo dipende dal periodo in cui li facciamo ho preso 100 grammi di semola di grano duro a cui andrò ad aggiungere all'incirca 50 ml di acqua lievita cominciamo a lavorare tutto ecco qui il nostro impasto che sta prendendo forma lavoriamo un po e poi lo mettiamo a riposare una mezz'oretta dopo il riposo prendiamo l'impasto e cominciamo a formare facciamo a fare i salsicciotti lo mettiamo cerchiamo di palleggiare in tutta la linea adesso possiamo incominciare andiamo con due mani e facciamo questo gesto qui e stacchiamo così e stacchiamo e stacchiamo ecco i nostri gnoccoli trapanesi finiti questi sono i lontani cugini dei cavatelli che si fanno in Puglia o in altre parti d'Italia possono essere condite come abbiamo detto con il sugo di pesce o con il sugo di carne a voi da scelta se questo video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti